buongiorno a tutti e bentrovate la rubrica domanda risponde oggi parleremo di terza fasciata delle gradatori di istituto di terza fasciata per i vari profili da assistente amministrativo collaboratore scolastico operatore scolastico assistente tecnico guardarobbiere cuoco infermiere e operatore per i servizi agrari parleremo di questo delle domande della compilazione delle domande che scadrà giorno 28 di giugno venerdì e andiamo alla prima domanda se in caso di aggiornamento o conferma per le gradatori di istituto di terza fasciata di un determinato profilo dovesse avere più di una modalità di accesso valida per la situazione in cui mi trovo come mi devo comportare allora le modalità di accesso sono selezionabili in funzione dell'operazione scelta per un determinato profilo in particolare per l'inserimento dunque un nuovo inserimento sono previste le seguenti modalità a b c d e e g per l'aggiornamento e la conferma diciamo che dalla lettera b e la lettera g compresa la lettera f ci saranno la possibilità di scegliere o b o c o d o e o f o g qualora l'aspirante si trovi per un determinato profilo in modo tale che abbia più di una modalità di accesso abbia più di una opzione disponibile deve scegliere la prima che figura nell'elenco in ordine alfabetico la prima a disposizione inserirà quella piuttosto che una successiva questa è come ci si deve comportare in caso ci siano si possono esprimere e più modalità di accesso per uno stesso profilo andiamo alla domanda numero due o un diploma preso all'istituto tecnico industriale indirizzo telecomunicazioni quale codice del titolo devo selezionare per il profilo assistente tecnico allora per il profilo assistente tecnico voi dovete sapere che dovete guardare scrupolosamente l'allegato ci al decreto ministeriale numero 59 del 28 giugno 2008 e i relativi aggiornamenti trovo che per chi ha un diploma quinquennale conseguito all'istituto tecnico industriale articolazione telecomunicazioni telecomunicazioni il codice del titolo è tf 28 torino firenze 2 8 e le aree dei laboratori in cui poi si riceverà l'incarico sono a r 02 oppure a r 0 8 andiamo alla terza e ultima domanda il servizio svolto in un determinato profilo a quale profilo andrebbe riferito i servizi letti dal fascicolo personale del sito dunque che sono importabili e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l'interessato dunque al medesimo profilo in cui si è svolto in analogia l'aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritari o comunque che non lo debba importare ma lo debba dichiarare lo dovrà indicare puntualmente e indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole c'è il medesimo profilo dove è stato svolto il servizio il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili appunto richiesti speriamo che queste risposte siano utili al nostro pubblico e che si possa così diciamo avere chiarezza rispetto alla compilazione della domanda seguiteci ancora nei nostri canali facebook youtube perché parleremo ancora di gradatore terza fascia alta arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti